e buongiorno i titoli di oggi la guerra dei tir raggiunto l'accordo dopo il vertice di d'accordo facciamo va bene d'accordo scusate dovevamo collegarci con amelia ma il collegamento non è ancora pronto adesso dovremo affrontare quello che invece è il problema dell'università il problema dell'università abbiamo già parlato ieri abbiamo presentato che hanno grandi problemi per trovare un posto di lavoro e i maggiori problemi li hanno i laureati soprattutto nelle materie umanistiche e un altro caso